Musica Sono passati due mesi dalla scomparsa del nostro collaboratore Gianni Romano. Teleionio in collaborazione con Maurizio Torchia lo vuole ricordare con questo video, per non dimenticare. Grazie a tutti. La comunità di squillaccia ai tempi del coronavirus. Ai tempi del coronavirus, in cui vigge il distanziamento sociale, anche per quanto riguarda le funzioni religiose, chiese vuote, niente processioni, non è facile attivarsi con i mezzi moderni, con il web, con le celebrazioni in streaming, per mantenere il contatto con i fedeli e permettere loro di seguire le sacre funzioni. Ma c'è da dire che alcuni sacerdoti si sono messi proprio di impegno in questo senso ed un plauso davvero particolare va alla comunità ecclesiale di squillaccia guidata dal parroco Chiaravallese Don Vincenzo Iezzi, che si è ben organizzata, soprattutto in questo periodo pasquale, da poco trascorso, non facendo mancare nulla, dalle messe mattutine e collodi, alla via Crucis, alla recita del Santo Rosario, a tutti i riti della Settimana Santa, dalla cena, alla veglia, alla messa della Pasqua di Ressurrezione, celebrate a porte chiuse dalla Basilica Cattedrale o dalla Cappella delle Suore Contemplative, ma trasmesse tutte instancabilmente in diretta streaming sulla pagina Facebook Comunità Ecclesiale Squillacce. Dalla stessa pagina Facebook Don Enzo qualche giorno fa ha voluto manifestare vicinanza ai fedeli con queste parole. Le restrizioni dei decreti che vietano gli assembramenti per evitare la diffusione del coronavirus modificano in questo momento storico le nostre abitudini. Stiamo soffrendo particolarmente in questi giorni per l'impossibilità di manifestare il volto comunitario nell'Assemblea. Ma non dobbiamo perderci d'animo, anzi ci dobbiamo sentire più uniti spiritualmente nella preghiera e celebrare insieme il Signore, anche se fisicamente lontani. Sarà una Pasqua del tutto nuova e diversa, sì nella parte esterna, ma non nel suo messaggio di morte e risurrezione in Cristo, che oggi più che mai deve darci sostegno e speranza. In questo stato di eccezionalità tutti noi fedeli siamo chiamati alla preghiera che è la prima forza per vivere la vita in comunione con Dio, che dona speranza e permette di vedere anche al di là della sofferenza. Don Enzo ha saputo coinvolgere anche i volontari della protezione civile con la consegna a tutta la comunità di Squillacce nella mattinata seguente alla messa della cena del pane della solidarietà, ben oltre 500 pani benedetti offerti dal panificio Carello, perché, come dice Don Enzo, la persona e l'intera comunità si sentano unite fraternamente nel banchetto della solidarietà, condividendo il pane, seppur distanti, per poter un giorno condividerlo alla stessa mensa. Messaggi di speranza quindi dalla comunità di Squillacce e da Don Enzo, è stato coadiuvato dalla presenza e partecipazione delle suore carmelitane messaggere dello Spirito Santo, da Don Giuseppe Megna e da Don Raffaele Facciolo. Don Enzo e le suore hanno davvero confortato i fedeli attraverso la pagina Facebook, anche con un bellissimo video augurale di Buona Pasqua, che esprime attraverso il canto danzante gioia, positività e ottimismo, ed in questo periodo non facile ne abbiamo certo bisogno. Anche il nostro arcivescovo, Monsignor Vincenzo Bertolone, ha voluto recarsi nella Basilica Cattedrale di Squillacce per celebrare ieri la Santa Messa della Divina Misericordia, sempre in diretta streaming dalla pagina Facebook di Catanzaro Informa e condiviso da quella della comunità di Squillacce. Un modo anche questo per essere vicini al popolo dei fedeli, con l'invito rivolto loro ad essere forti e uniti nella preghiera, perché solo così il cuore potrà trovare sollievo e pace, in questo momento in cui il nostro presente è dilaniato da una guerra silenziosa, ma che siamo sicuri con la fede in Cristo, vinceremo. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro La Mezzia, indagini della Polizia su funerale a Ciampa di Cavallo, ascoltate alcune persone e acquisiti nuovi elementi. Proseguono le indagini della Polizia su quanto accaduto a Ciampa di Cavallo dopo l'assembramento verificatosi in occasione del funerale di un uomo di 51 anni, la cui morte è avvenuta il giorno precedente. Gli uomini del dirigente Raffaele Pelliccia non hanno perso tempo e hanno avviato indagini serrate, intanto individuando l'agenzia funebre che si è occupata del funerale. Al vaglio degli investigatori, il racconto di uno degli autisti dell'agenzia e contemporaneamente procedendo all'identificazione dei presenti nel piazzale antistante il grande complesso residenziale dove vivono molte famiglie di etnia rom, così come sono sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti gli attimi successivi al decesso dell'uomo avvenuto per un malore e accompagnato al pronto soccorso dallo stesso titolare del deposito di ortofrutta dove prestava la sua attività. La Polizia in sostanza sta cercando di esaminare e di ricostruire tutte le circostanze dal momento della dichiarazione di morte alla consegna della salma all'agenzia funebre e da questa ai familiari. Intanto sono in molti a chiedersi cosa accadrà in termini di provvedimenti per quanto riguarda la popolazione lamettina. Alcuni consiglieri comunali hanno segnalato l'assoluta gravità del fatto la stessa Polizia come si evince sta esaminando tutti i risvolti penali del caso. Per Teleionio, Anna Maria Colabrano. Il sindaco di Chiaravalle, Domenico Donato, informa i suoi cittadini. Buongiorno, oggi lunedì 20. È una data importante poiché proprio l'altro giorno dicevo che il 20 iniziavano le prime scadenze per quanto riguardavano alcuni positivi della nostra Chiaravalle. Parenti e dipendenti. E così è stato infatti poiché già da sabato è iniziata la fase di verifica la verifica per i tamponi i tamponi che dovranno seguire alla prima negatività un secondo tampone per confermare questo stato di negatività per poter avere poi il certificato di guarigione. Io mi auguro quindi che da qui a domani sera effettivamente si riesce ad avere ulteriori dati di negatività nella nostra comunità. Che bella cosa! Che belle notizie! Come sono belle le notizie che proprio il professore Torti della Policlinica Universitario ha detto che molti dei pazienti ora sono guariti, che stanno bene. Sono notizie che aspettavamo, notizie che ci confortano, che ci fanno andare avanti. Quello che anche in questi giorni ho detto riguardo a questo studio che sto portando avanti con la mia maggioranza per quanto riguarda un screening sul nostro territorio. È un progetto che stiamo portando avanti. Ieri sono stato in contatto con la professoressa Locca della direttrice di alcune strutture sanitarie su a Roma e in questo momento ho sentito il dottore Giuffrida, la dottoressa Leone. Si sta predisponendo un progetto. Io mi auguro di essere nelle condizioni economiche per poter affrontare un'iniziativa del genere. Ce la metteremo tutta e sicuramente arriveremo ad una definizione. L'altro passaggio fondamentale è lo studio da parte della mia maggioranza con l'ufficio finanziario per quanto riguarda la fase 2. La fase 2 qual è? È la fase di ripresa. E l'amministrazione che mi onoro di guidare non può non guardare già a questa fase. Una fase che con il responsabile dell'ufficio finanze del comune di Chiaravalle stiamo già predisponendo un piano di incontro verso tutte quelle categorie che oggi per causa di questo Covid-19 stanno avendo delle grossissime difficoltà. I commercianti, i titolari di strutture che in tutti questi giorni sono stati chiusi, tutti quelli che stanno soffrendo. Ecco, questo deve avere una forte attenzione da parte della mia maggioranza. Già avevamo dato una prima indicazione generale per quanto riguardava l'abbassare l'Imo, per quanto riguardava la Tari, per quanto riguardava l'addizionale comunale. Quello sì, quello riguarda tutte le famiglie e su quello andremo sicuramente avanti. Ma anche oggi bisogna fortemente dare una risposta a tutti quelli che stanno soffrendo in modo particolare quello che si sta vivendo in questi giorni. Ci siamo, continuiamo a lavorare e sicuramente avremo delle belle risposte. Grazie e buona giornata. Le iniziative dell'amministrazione comunale di Argusto. Il sindaco Walter Matoz e l'amministrazione comunale comunicano che relativamente ai contributi per misure urgenti di solidarietà alimentare, ordinanza protezione civile numero 658 barra 2020 sono stati consegnati alle famiglie buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di beni di prima necessità. Al comune di Argusto con la predetta ordinanza è stata assegnata la somma di Euro 4738,22 e di questi ne sono stati assegnati ai beneficiari Euro 2350. L'amministrazione rende noto che la restante somma ovvero Euro 2388,22 sarà assegnata con successivo avviso pubblico. E ancora il sindaco Walter Matozzo porta a conoscenza che l'amministrazione comunale con personale del comune ha distribuito ai singoli nuclei familiari a tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio un kit comprendente guanti e mascherine Antonella Mantino per Teleionio. Nel contesto del gemellaggio Camini badolato un gesto di grande solidarietà donate al comune ionico mascherine realizzate dagli immigrati. La solidarietà ai tempi del coronavirus è quello che succede anche tra comuni calabresi in questo caso tra due comuni che della solidarietà hanno fatto un modus operandi Badolato e Camini due comuni gemellati tra di loro. Quando ci precisa l'assessore alle politiche sociali del comune di Badolato Daniela Trapasso ho avuto notizia della bellissima iniziativa messa in campo dalla Eurocop Giungimundo di Camini cioè la produzione di mascherine collaboratori solidali che vedono impegnati anche gli immigrati non ha esitato a contattare il sindaco di Camini architetto Giuseppe Alfarano per chiedere se fosse possibile avere un po' di mascherine anche a Badolato vista la difficile reperibilità di questo materiale. Trapasso la risposta del sindaco Camini la sua risposta è stata di grande umanità e solidarietà cara Daniele da questi piccoli gesti che dobbiamo iniziare siamo una comunità e domattina le ragazze della cooperativa lavoreranno per il mio comune gemellato. Come vi siete mossi? Subito ho informato il sindaco Gerardo Mannello che si è recato a Camini dove ha incontrato il collega sindaco e il presidente dell'Eurocop Giungimundu Rosario Zurzolo qui gli sono state consegnate un piccolo numero di mascherine realizzate in tessuto non tessuto TNT lavabile e quindi riutilizzabile piccola quantità ma grande gesto pieno di significato tenuto conto che non si tratta di una produzione a carattere industriale ed è limitata nei numeri. Sindaco Mannello un bel gesto? E' stato un bellissimo gesto quello del collega del comune di Camini che ha inteso dare concretezza al gemellaggio che incorre tra i nostri due comuni le mascherine sono già state consegnate alle forze dell'ordine del nostro comune dell'ufficio postale ai ragazzi rifugiati politici residenti nel nostro comune e ai cittadini maggiormente esposti e vulnerabili ringrazio davvero di cuore il sindaco di Camini Giuseppe Alfarano il presidente della Eurocop Giungimundu Rosario Zurgolo e tutte donne e uomini immigrati che stanno rendendo possibile questa lodevole iniziativa ci auguriamo di poter al più presto ricambiare questo gesto magari in situazioni più sereni da Carla Elisabeth Taverna per Teleionio coronavirus deceduto un 88enne di Fagnano Castello all'ospedale Annunziata nuovo decesso legato al coronavirus nella provincia di Cosenza è morto nel reparto di malattie infettive all'ospedale Annunziata un 88enne di Fagnano Castello risultato positivo al covid-19 a confermare la notizia la stessa azienda ospedaliera l'anziano era stato ricoverato giorni fa in ospedale e il successivo esame ha rilevato il contagio dell'uomo che come reso noto dal sindaco di Fagnano Castello Giulio Transitano dovrebbe essere collegato al focolaio della RSA di Torano Castello secondo il primo cittadino l'anziano sarebbe venuto in contatto con una persona che si prendeva cura di lui e parenti di un collaboratore della struttura di Torano risultato a sua volta positivo Transitano ha anche comunicato nella tarda serata di ieri sera che sono salite a tre le persone risultate positive al coronavirus sono asintomatiche e si trovano in isolamento domiciliare da Carla Elisabeth Taverna per Teleionio coronavirus commovente saluto dei medici e due pazienti lombardi guariti in via di rientro a Bergamo sono stati dimessi due pazienti effetti da coronavirus provenienti da Bergamo ricoverati nelle scorse settimane all'ospedale pugliese di Catanzaro i due pazienti dopo la guarigione hanno lasciato il pedale catanzarese accompagnati da un commovente applauso di saluto del personale medico e sanitario che le ha assistiti in queste settimane ora sono rientrati in Lombardia i due pazienti sono stati trasportati con due ambulanze all'aeroporto di La Mezzeterme da dove si sono imbarcati per rientrare in Lombardia per i due è previsto un periodo di riabilitazione dopo la guarigione dal coronavirus da Carla Elisabeth Taverna per Teleionio sono orgoglioso di questo a nome di tutto l'ospedale e dell'intera regione che finalmente ha dato prova di quello che realmente vale la nostra sanità non è vero appunto che siamo diciamo la 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 coda dell'Italia ci sono delle persone che molto valide e che sanno fare il loro lavoro raccontiamo un po' la storia di questi pazienti sono venuti il 19 marzo con un aeromilitare da Bergamo ricoverato in rinanimazione dove sono stati una settimana circa e da dove poi vengono sono stati trasferiti nella mia unità operativa dove hanno proseguito le cure sono in discrete condizioni e da una settimana stanno facendo anche fisioterapia qual è la situazione dell'assistenza ai pazienti covid nell'ospedale pugliese sicuramente non sono io a doverlo dire credo dal mio punto di vista ottima queste sono considerazioni sul fatto che credo che si sia un po' alleggerita la pressione visto che si è svuotata la terapia intensiva quanti sono più o meno ecco questo in generale una considerazione sullo stato dell'epidemia in questo momento diciamo che siamo stati come ho già detto fortunati in quanto la Calabria ha chiuso le sue frontiere e ha attuato i procedimenti di distanziamento sociale appena il virus è arrivato per cui siamo riusciti a bloccarlo questa è stata una grossa fortuna indubbiamente e poi la gestione clinica e sul territorio credo sia stata ottimale dei pazienti affetti appunto da covid per quanto riguarda il futuro sicuramente non si può dire con certezza ma penso che bisogna aspettare il virus io credo che il vaccino perdono credo che il virus continuerà a girare anche se non in forma epidemica per cui penso che nei prossimi mesi dovremo in ogni caso mantenere queste forme di distanziamento sociale pazienti bergamaschi guariti al pugliese di Catanzaro Tallini accuse il Tg1 Calabria dimenticata è davvero imperdonabile la mancanza di attenzione del Tg1 verso la Calabria nell'edizione di ieri sera 19 aprile è stato mandato in onda un servizio da Palermo per raccontare la storia di un paziente bergamasco ricoverato in quell'ospedale e guarito grazie alle cure dei sanitari siciliani non un cenno né tantomeno un servizio per raccontare la bella pagina di sanità calabrese con i due pazienti lombardi uno di Bergamo e l'altro di Cremona ricoverati nella terapia d'urgenza dell'ospedale pugliese di Catanzaro e guariti grazie all'assistenza medica e al calore umano degli operatori sanitari calabresi nulla da togliere ovviamente alla bella storia di Palermo ma com'è possibile che il Tg1 abbia trascurato una storia ancora più bella quella di Catanzaro e quanto afferma il presidente del consiglio regionale Domenico Tallini che aggiunge le dimissioni dei due pazienti lombardi è stato un momento veramente commovente e intenso di questa battaglia che stiamo conducendo contro l'epidemia io credo che i medici gli infermieri gli operatori sociosanitari del pugliese meritassero questo riconoscimento da parte del telegiornale principale del servizio pubblico è stata una pagina bellissima non solo perché l'ospedale di Catanzaro ha salvato due vite ma anche perché ha trasmesso un'immagine di solidarietà nazionale di un sud spesso dimenticato che è però capace di grandi cose il ringraziamento dei due pazienti lombardi ed il loro desiderio di tornare in Calabria per le vacanze resteranno scolpiti nella nostra memoria la mia conclude non è una protesta ma solo una mala considerazione che spero venga recepita dai vertici della RAI e dal direttore del Tg1 Giuseppe Carboni al quale mi permetterò di fare pervenire questa dolente nota per Teleionio Anna Maria Colabrano coronavirus Santelli su fase 2 estrema prudenza non disponibile a mettere a repentaglio sacrifici fatti sono per una linea di estrema prudenza ho avuto una linea molto rigorosa finora ed i risultati ci sono stati la gente ha rispettato le regole non sono disponibile a mettere a repentaglio i sacrifici fatti dai calabresi comprendo che ci debba essere fase 2 ma deve essere preparata con attenzione e prudenza lo ha detto la Presidente della Regione Calabria Iole Santelli al Tg4 immagino ha aggiunto screening non tramite tamponi perché i reagenti non ci sono possiamo fare screening con test sierologici e ad iniziare da alcune categorie possiamo molto lentamente iniziare ad aprire alcune attività ma mantenendo fermo il principio che è una fase di grande attenzione io continuo a dire che non siamo liberi di uscire come ci pare quindi stiamo molto attenti perché anche parlare troppo di fase 2 fa sembrare alle persone che è normale e siano esasperate che il pericolo è scomparso mentre il pericolo è sempre lì fuori Antonella Mantino per Teleionio Ferro unica vera task force del governo è quella per la spartizione delle poltrone chi pensa che il governo in questo momento si stia preoccupando di procurare respiratori per le terapie intensive o di salvaguardare il sistema produttivo della nazione dalla crisi economica e dalle speculazioni finanziarie si sbaglia di grosso c'è una sola task force pienamente operativa ed è quella in cui i grillini e sinistra stanno litigando per spartirsi centinaia di poltrone di enti pubblici e grandi aziende di Stato e quanto afferma il vice capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Vanda Ferro che prosegue mentre tutta l'attenzione rivolta all'emergenza sanitaria ed economica il governo che non lavora con il favore delle tenebre ha prima indebolito il ruolo di controllo del Parlamento per poi procedere al rinnovo dei vertici di IMS e INAIL e di aziende come Enel Poste Eni Leonardo ci vuole davvero faccia tosta ad appellarsi allo spirito di collaborazione istituzionale per poi avventarsi in maniera famelica sulle partecipate per accaparrarsi le poltrone dei consigli di amministrazione Noi di Fratelli d'Italia conclude Ferro abbiamo chiesto il temporaneo congelamento delle nuove nomine dei vertici delle partecipate pubbliche perché riteniamo che in questo momento delicato per la nazione vada garantita la stabilità e la continuità gestionale delle aziende per tutelare i nostri asset strategici dalla crisi e dalle speculazioni Per Telegionio Anna Maria Colabraro Ed ora ci fermiamo per una breve pausa A tra poco Campagna Regione Lega Dieni Inaccettabile Santelli intervenga E' inaccettabile che la Lega Calabrese usi il simbolo della Regione per fare spicciola propaganda di partito Mi auguro che la Presidente Iole Santelli intervenga e imponga ai membri della sua maggioranza un maggior rispetto delle istituzioni pubbliche Così la portavoce della Camera del Movimento 5 Stelle Federica Dieni in merito all'ultima campagna istituzionale lanciata dal Vice Presidente dell'Aggiunta Nino Spirli Tralasciando il significato della campagna scegli calabrese piuttosto grottesca dato che a sostenerla è un partito che ha sempre fatto solo gli interessi delle regioni del nord continua la deputata E' davvero inopportuno e politicamente scorretto che il simbolo del Movimento di Salvini venga associato a quello della Regione in quella che può apparire come una sorta di legistizzazione della principale istituzione della Calabria La Lega e Spirli pertanto conclude Dieni dovrebbero avere il garbo politico di chiedere scusa e di non replicare mai più simili strumentalizzazioni delle istituzioni pubbliche Pitaro velocizzare il pagamento della cassa integrazione I ministri dello sviluppo economico del lavoro degli affari regionali il presidente dell'Inps l'ABI ed il presidente della Regione Calabria pongano in essere con tempestività ogni atto e iniziativa volti a rendere effettivamente operativo il decreto legge numero 18 2020 e il protocollo ABBI del 30 marzo e garantire l'erogazione immediata del trattamento di cassa integrazione in favore dei lavoratori da parte dell'Inps o degli istituti bancari e quanto ha chiesto in un'istanza inviata ai soggetti menzionati il consigliere regionale Francesco Pitaro gruppo misto che sintetizza l'iter della vicenda il decreto legge numero 18 2020 ha previsto il riconoscimento della cassa integrazione in favore dei lavoratori delle società che hanno dovuto interrompere per il covid-19 le attività la normativa prevede il diritto alla cassa integrazione in favore del lavoratore da parte della regione e l'erogazione da parte dell'Inps il 30 marzo è stata stipulata una convenzione tra Abbi e alle organizzazioni sindacali con cui è stato riconosciuto il diritto all'anticipazione del trattamento economico da parte delle banche aderenti ed il ministro Patuanelli ha assicurato che entro Pasqua si sarebbe provveduto all'erogazione aggiunge Pitaro a seguito di ciò la regione Calabria ha emesso i decreti di riconoscimento del diritto al trattamento economico in favore dei lavoratori le cui aziende avevano fatto istanza ma ad oggi le migliaia di lavoratori calabresi non hanno ottenuto il pagamento della retribuzione cassa integrazione per il consigliere regionale occorre un intervento energico da parte del governo e della regione in particolare affinché si dia un taglio a ritardi e lungaggini deplorevoli che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei lavoratori e delle loro famiglie per Teleionio Anna Maria Colabrano il presidente della regione Calabria Iole Santelli nomina Fabrizio Criscuolo nel comitato di indirizzo della ZES di Gioia Tauro il presidente della regione Calabria Iole Santelli ha trasmesso una nota al commissario straordinario dell'autorità portuale di Gioia Tauro Andrea Agostinelli designando il rappresentante della regione nel comitato di indirizzo della ZES si tratta informano del professor Fabrizio Criscuolo 58 anni professore ordinario di diritto privato presso la facoltà di scienze politiche dell'università di Roma Sapienza Fabrizio Criscuolo vanta un curriculum di studi di ricerche e di molte pubblicazioni scientifiche sull'arbitrato l'autonomia privata l'autodisciplina il suo nome è fortemente legato agli Atenei Calabresi dove ha insegnato da legale ha seguito grandi gruppi anche internazionali e si è occupato della privatizzazione e della collocazione in borsa di numerose aziende esperto di contenzioso arbitrale oggi viene chiamato a mettere a disposizione la sua alta professionalità nei confronti della ZES di Gioia Tauro da Carla Elizabeth Taverna per Teleionio coronavirus non rispetta norme di sicurezza e aggredisce i carabinieri arrestato giovane Lamettino i carabinieri della compagnia di Lamezia Terme hanno tratto in arresto un giovane Lamettino per resistenza minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale i militari lo avevano controllato nella tarda serata di sabato mentre si aggirava a piedi per le vie del centro trovato in possesso di pochi grammi di sostanza stupefacente del tipo marihuana il giovane in evidente stato di alterazione psicofisica si è scagliato contro i militari operanti proferendo frasi ingiuriose e minacciose e tentando di sputare anche nei loro confronti mentre millantava serite amicizie con soggetti legati alle consorterie criminali Lamettine bloccato è stato tratto in arresto e a seguito dell'udienza di convalida gli è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Antonella Mantino per Teleionio Emergenza coronavirus non ferma trapianti impiantato Rene su giovane paziente a Cosenza L'emergenza coronavirus non ferma i trapianti di Rene e nei giorni scorsi nell'ospedale dell'annunziata di Cosenza è stato eseguito un trapianto su una giovane paziente residente in provincia a darle notizia oggi è la direzione dell'azienda ospedaliera il trapianto è stato eseguito dalla relativa equip di chirurgia con i dottori Sebastiano Vaccarisi e Vincenzo Pellegrino dell'unità operativa di neofrologia guidata dalla dottoressa Teresa Papaglia e di anestesia diretta dal dottor Pino Pasqua L'organo proveniente da Catanzaro prelevato da un giovane donatore è stato trapiantato in tempi record pur nel rigoroso rispetto delle procedure di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria Covid-19 che inevitabilmente determina un allungamento dei tempi di trapianto L'epidemia in corso ha spiegato Vaccarisi ha rivoluzionato l'organizzazione degli ospedali e anche le procedure cliniche dei trapianti che sono interventi che devono essere completati il prima possibile atteso che un organo prelevato non può essere conservato a lungo hanno subito un'ulteriore revisione in questo periodo quindi i trapianti diventano ancora di più una corsa contro il tempo grazie al lavoro sinergico tra equip e al coordinamento tra i centri ha aggiunto Vaccarisi abbiamo messo in moto la macchina organizzativa e siamo riusciti ad effettuare il trapianto di rene in tempi brevi il risultato è che la paziente ha già ripreso le attività di diuresi per Teleionio Anna Maria Colabrano La Mezzia fermati due pregiudicati vicino all'aeroporto ferito un poliziotto momenti di estrema concitazione nella zona a scalo della città di La Mezzia una vettura con a bordo due pregiudicati di La Mezzia Terme GF e MR è stata sorpresa dagli agenti della polizia nei pressi della recinzione dell'aeroporto dove i due andavano ad impattare al momento della richiesta da parte degli agenti di esibire documenti di riconoscimento il primo uomo GF avrebbe reagito impugnando un'accetta l'uomo è stato immobilizzato dai poliziotti uno dei quali però nel corso della concitazione riportava ferite intanto sul posto sopraggiungevano anche i carabinieri della stazione di Scalo La Mezzia che insieme ai poliziotti riuscivano a bloccare i due il poliziotto ferito è stato portato al pronto soccorso per lui tre punti di sutura e otto giorni di prognosi al pronto soccorso anche GF il quale avrebbe dichiarato che nel brandire l'ascia pensava ad un gesto di autolesionismo per questo motivo è stato denunciato dopo le formalità di rito i due sono stati rilasciati da Carla Elisabeth Taverna per Teleionio La Mezzia aggredisce la moglie colpendola al volto un arresto i carabinieri della compagnia di La Mezzia Terme hanno tratto in arresto un giovane nigeriano per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali i militari si sono precipitati a seguito di richiesta di intervento pervenuta da un agente della polizia penitenziaria nella circostanza libero dal servizio che aveva udito le urla della donna provenire dall'interno dell'appartamento dove vive la coppia sito alla Mezzia Terme a loro arrivo la donna era ancora per terra terrorizzata mentre stringeva a sé la loro figlia minore forse un litigio per futili motivi aveva innescato l'ira dell'uomo che si è scagliato contro la propria consorte colpendola reiteratamente al volto lo stesso è stato tratto in arresto e a seguito dell'udienza di convalida gli è stata applicata la misura di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa Antonella Mantino per Teleionio Ciminà Reggio Calabria i carabinieri ritrovano fucile e munizioni i carabinieri della compagnia di Locri assieme ai colleghi dello squadrone riportato cacciatori di Vibbo hanno trovato nascosto all'interno di un tubo in gomma occultato in un muro un fucile da caccia e numerose munizioni ancora un rinvenimento di armi da parte dei carabinieri nella Locride questa volta siamo a Ciminà in località Vene qui i carabinieri cacciatori di Calabria nel corso di uno dei tanti servizi congiunti con i militari della stazione di Sant'Ilario dello Ionio hanno trovato un fucile semiautomatico marca Franchi modello Prestige calibro 12 clandestino oltre 12 cartucce dello stesso calibro l'arma perfettamente funzionante è stata sequestrata dai militari dell'arma i quali hanno avviato ulteriori accertamenti per capire chi avessero la disponibilità del fucile Antonella Mantino per Teleionio lesioni e armi sconta la pena guardavalle con braccialetto elettronico per il magistrato di sorveglianza di Catanzaro non si ravvisano gravi motivi ostativi alla concessione della misura richiesta dal legale difensore AR 34 anni di guardavalle accusato di detenzione porto illegale di armi e lesioni personali potrà scontare la pena residua non superiore a 18 mesi nella propria casa con braccialetto elettronico lo ha stabilito il magistrato dell'ufficio di sorveglianza di Catanzaro accogliendo l'istanza dell'avvocato Vincenzo Cicino sul presupposto che AR non è un delinquente abituale professionale né è stato redatto rapporto disciplinare per coinvolgimento in disordini e insommosse alla luce delle emergenze istruttorie e dell'entità della pena residua da espiare per il magistrato Laura Antonini non si riavvisano gravi motivi ostativi alla concessione della misura atteso che il detenuto solo due precedenti penali per violazione della legge sulle armi e non risulta dalle informazioni dei carabinieri che abbia pendenze per reati associativi il giovane però non potrà allontanarsi dal luogo della detenzione domiciliare sito in guardavalle senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza di Catanzaro salvo che per motivi di salute e sempre rispettando le limitazioni imposte dal governo sulle restrizioni per l'emergenza coronavirus Antonella Mantino per Teleionio scoperta piantagione di canapa indiana a Rosarno arrestato 32enne una piantagione con 600 arbusti di canapa indiana all'altezza media di 30 centimetri disposte su 15 file irrigate con un sistema di tubi artigianale è stata scoperta a Rosarno dai carabinieri che hanno arrestato in flagranza Francesco Mercurio incensurato di 32 anni con l'accusa di coltivazione di droga i militari della tenenza di Rosarno e i colleghi dello squadrone riportato cacciatori Calabria nel contesto dei servizi di contrasto della diffusione del coronavirus hanno notato il 32enne in località Pizzo dell'Acrofola nei pressi di un suo terreno agricolo all'interno dell'appezzamento è stata poi individuata una serra con all'esterno telecamere di videosorveglianza a seguito di perquisizioni domiciliari i carabinieri hanno sequestrato all'uomo circa 5.000 euro in contanti e due involucri contenenti 100 grammi di marijuana la droga è stata sequestrata e sarà esaminata dal ris di Messina la piantagione avrebbe consentito profitti per migliaia di euro da Carlo Elisabeth Taverna per Teleionio fermato con novellame in macchina uomo sanzionato e pesce sequestrato trasportava per la vendita del bianchetto all'interno della sua autovettura per tale motivo i carabinieri forestali di Acri coadiuvati dai colleghi della locale stazione carabinieri hanno nei giorni scorsi sanzionato una persona di Corigliano Rossano fermata durante un controllo nel centro abitato di Acri i militari hanno accertato che l'uomo trasportava all'interno di una cassetta in plastica nel portabagagli dell'autoveicolo circa 16 kg di novellame di sarda pronto per essere venduto a seguito del rinvenimento si è quindi proceduto alla sanzione amministrativa in quanto tale attività è in contrasto con la normativa vigente che vieta la detenzione il trasporto e la commercializzazione di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima di riferimento inoltre lo stesso è stato ulteriormente sanzionato in quanto il pesce era privo di tracciabilità e trasportato con un automezzo privo della necessaria autorizzazione e in violazione alla normativa vigente covid-19 in quanto fermato fuori dal comune di residenza il prodotto ittico è stato posto sotto sequestro amministrativo e dopo l'attestazione del servizio veterinario intervenuto è stato donato dai militari in beneficenza ad un istituto caritatevole della zona per teleionio anna maria colabraro teleionio a fianco della protezione civile aiutiamo le guardie ambientali d'italia ad accendere un sorriso a chi ha bisogno insieme possiamo fare la differenza